Questo girone, come abbiamo sempre detto, è molto livellato e quindi anche le partite sono assolutamente complicate come quella di oggi, perché il Vasto Girardi non è la squadra dell'andata, dove siamo, quanto abbiamo vinto all'andata? 5-1. È totalmente un'altra squadra e ovviamente se poi il tifoso non sa che c'è una squadra che è cambiata, pensa a come, abbiamo vinto 5-1 lì, perché soffriamo così? È perché non sono gli stessi, perché è una squadra che è cambiata, che si è evoluta, che è cresciuta, che ha imparato a giocare in maniera diversa, che ci ha pressato altri, perché poi gli allenatori, a me viene da ridere a dove dà queste spiegazioni, ma gli allenatori durante la settimana reciprocamente studiano gli avversari per sapere quali contromisure adottare. Io sinceramente faccio fatica, perché insomma mi sembra che i primi 30 minuti nostri sono stati molto buoni, abbiamo fatto due gol, potevamo fare anche il terzo, poi è chiaro, c'è un calo, c'è un calo che non è dovuto all'incapacità dei nostri, spesso anche alla capacità degli avversari, che hanno 17 punti, che hanno bisogno di prendere punti salvezzi e che devono necessariamente in qualche modo tentare tutto per tutto. Ho sommato io, perché voi siete gli esperti del settore, sommato io vedo altre cose, abbiamo vinto una partita, il campo basso perde, usciamo dal campo e veniamo contestati. Ho risposto personalmente ad alcuni tifosi e dopo avermi detto questa squadra non c'è un gioco, ho detto è questa, ci abbiamo, mi sono sentito rispondere, allora caccia l'allenatore. Ma che risposte so? Quindi io l'unica giustificazione che do è che ci sia una volontà precisa a fare determinate contestazioni, che siano motivazioni al di fuori delle questioni calcistiche, perché se è così non è stiamo veramente inguaiati, siamo veramente inguaiati. Però a questi tifosi, a questi sportivi e forse pure a qualche vedua vorrei ricordare che questa è la squadra e questo è l'allenatore e finché vinciamo e siamo lì su non si cambia niente. Magari fa prima andare via al presidente.